e sino al 2005, diciamo che da questo sistema non si è uscito, ci piace o no, la direttiva del 2012 di fatto rivolta questo modo e deve portare tutti i periodi di dito a cambiare completamente il schema di riferimento, perché in realtà i contratti a distanza, i contratti diversi fuori dai reali commerciali, sono i contratti per antomasia, diventano la base del modo di contrattare all'interno del codice del consumo e non solo e tutto il resto sostanzialmente è relegato all'eccezione, non lo dico io ovviamente, lo diceva nel 2011, lo dice poi il decreto legislativo di attuazione, tant'è che se andiamo a prendere le prime norme proprio del codice del consumo, farò riferimento alla mia reazione molto al dato normativo, perché poi uno parlando rischia di perdere il contatto con quelle che sono invece le regole, se noi appunto vediamo come è stato attuato all'interno del codice tutta questa disciplina, l'articolo 46, ambito di applicazione, è centrale, cioè dice prima vengono i contratti a distanza, i contratti negoziati fuori dai reali commerciali, articolo 47, l'esclusore, tutto ciò che non viene toccato da questa disciplina, quindi il rapporto, quello che sino al 2011 era un rapporto di genere della specie, oggi ribaltato, è generare la disciplina dei contratti a distanza, quella negoziata fuori dai reali commerciali, è speciale, articolo 47, esclusione, tutto ciò che non riguarda questa normativa qui, tant'è che è talmente speciale, e poi il legislatore ha coniato un'espressione un pochettino homofoba, basatevi in termini, se stiamo a riferimento, gli ha chiamati tutto ciò che non viene messo al piano questa disciplina, due contratti diversi, ovvio che la protesta della tecnologia generica fa un po' a capolare la pelle, l'espressione dei contratti diversi, appunto l'ho chiamata un'espressione homofoba, ma prende bene la misura del cambiamento in prospettiva, questo da un contratto speciale, da un modo di contrattare, da modalità di formazione del contratto, tant'è che la precedente rubrica di una delle sezioni era appunto particolare in modalità di formazione del contratto, si toglie completamente questo modo di pensare perché questo diventa effettivamente i contratti. Io ricordo solo che gli obiettivi definiti dal legislatore della legge istitutiva, dell'arbitro bancario che era il 262 del 2005, della nota per otterrare i risparmi, di scandali finanziari, furono indicati testualmente nella rapidità, nella economicità e nella effettività. Il lessico della direttiva mi pare assolutamente omologo, quarto considerando individua negli obiettivi di queste procedure, a parte la facilità, l'efficacia, la rapidità e il basso costo. Tutto il nostro sistema di imprese nei diversi ambiti, nei diversi settori produce ogni Аnda, qui, che hanno utilizzato il nostro sistema di imprese in04. investe in attività di analisi, di studio, di ricerca, la ricerca è fondamentale per rinnovare e per noi innovazione non deve essere solo innovazione di prodotto o di processo o di modalità di comunicazione nelle varie forme, probabilmente per noi innovazione deve essere anche modalità di relazione con chi fa educazione perché si creano veramente dei consumatori attivi che possano aiutarci a migliorarci. Quali sono, diciamo, se quando parliamo di pazienza finanziaria intendiamo tante cose, no? Cioè l'educazione meditiva, l'educazione assicurativa, l'educazione alla finanza, l'educazione allo spagno. Possiamo dire che l'avvicinamento, cioè sono cambiate le età, cioè l'avvicinamento al credito è un'età, diciamo, si è molto abbassata l'età di avvicinamento al credito, cioè 14 anni si dice e si è anche alzata perché sono previste anche delle forme di finanziamento per persone molto anziane.